Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi iniziamo questa miniserie parlando dell'aerodinamica. Prima di tutto io vorrei ringraziare Carlo per avermi suggerito di prendere un modellino per spiegarvi un po' meglio il setup. Quindi, Carlo hai visto, ti ha ascoltato, la bella McLaren P1 GTR che mi darà una mano appunto ad illustrare meglio come poter capire il setup. Allora, per iniziare, l'aerodinamica non è nient'altro che la scienza che studia il comportamento dei gas e per noi quello che ci interessa è l'aria. Per farvi capire, iniziamo subito con una domanda. Cosa accomuna un'auto e un aereo? E qua potreste dirmi, Fabri sono due mezzi di trasporto, hanno un pilota, strumentazione eccetera. Giusto? Ma c'è qualcosa di più che ci interessa rispetto appunto all'argomento che stiamo trattando, l'aerodinamica. Quello che accomuna questi due mezzi è appunto l'aerodinamica che è influenzata da che cosa? Da una forza in particolare che differenzia radicalmente questi due mezzi di trasporto, perché uno decolla e l'altra sta a terra. E si tratta di una forza verticale che per uno, quindi l'aereo si chiama portanza e per l'auto si chiama deportanza. Per capirci meglio, la portanza è quella forza che è generata grazie alla forma delle ali dell'aereo che permettono di far passare o meglio defluire l'area che passa sopra le ali più rapidamente rispetto all'area che passa sotto l'ala. Il che genera una depressione verso l'altro, quindi una portanza che permette di far decollare l'aereo ma anche di tenerlo in quota. Al contrario per l'auto questa forza che è generata da un fondo piatto che fa defluire più rapidamente l'aria sotto l'auto rispetto alla parte superiore dell'auto che appunto permette di creare una depressione verso il basso e creare il famoso effetto suolo. E' ovvio che non è solo il fondo piatto che genera questo effetto suolo, ci sono tutti gli elementi aerodinamici che partecipano appunto a questo effetto suolo. Come avrete capito si tratta sempre di legge della fisica e che sono fior fior di ingegneri meccanici aerodinamici, chi più ne ha e chi più ne metta e team di designer eccetera eccetera che studiano appunto il comportamento dell'area rispetto alla carrozzeria dell'auto al fine di migliorarne le prestazioni, la tenuta di strada, le performance, quello che volete. Quindi ecco quello che è l'aerodinamica e l'importanza che ha sul comportamento della nostra auto. Per farvi vedere in pratica come funziona, perché è così spiegato così, insomma e sono parole, ho realizzato un esperimento e ve lo faccio vedere qua. Come vedete io ho posizionato due supporti, quindi in questo caso due spugne e sopra ho messo un foglio di carta A4 e con il mio compressore ho sparato dell'aria sotto il foglio e quindi uno subito diceva beh il foglio parte via. Invece no, perché cosa ho creato? Ho creato questa depressione, quindi aumentando la velocità dell'aria che sta sotto il foglio, che quindi è più rapida rispetto a sopra, crea questa depressione e quindi questa forza che va dall'alto verso il basso spinge in basso il foglio e mi crea deportanza. Allo stesso modo posso creare portanza facendo il contrario, però questa volta ho utilizzato un asciugacapelli. Ho posizionato, e qua ve lo faccio vedere di nuovo, ho posizionato un foglio A4 sempre sotto la bocca di uscita dell'aria dell'asciugacapelli e qui uno si aspetta diceva beh non succede niente perché l'aria non è in linea con il foglio e quindi non succederà niente. Invece no, perché per lo stesso principio io sparando aria sopra il foglio c'è l'aria che va più veloce rispetto a quella che sta sotto e quindi di conseguenza crea portanza e il foglio si alza. Ecco i principi di deportanza e di portanza. Quindi di conseguenza come posso sfruttare la deportanza perché è quello che mi interessa a mio favore, a mio vantaggio per poter ottenere più performance dell'auto, basta modificare alcuni elementi aerodinamici, nello specifico per noi sono gli elettoni ragazzi. Infatti come li modifico basta cambiare l'inclinazione appunto dell'alettone. Io inizierei subito con l'alettone posteriore, andare un po' a vedere quali sono gli effetti che ha questa modifica caricando o scaricando aerodinamicamente l'auto. Allora, se io inclino di più gli elettoni avrò più carico aerodinamico e che cosa succede? Gli effetti sono molto semplici. Perderò in velocità sui rettifili e guadagnerò grip in curva. Perché? Perché avendo maggior pressione, quindi maggior carico aerodinamico sull'auto, questo fa sì che ci sia maggior contatto tra le gomme, quindi i pneumatici e il manto stradale. Il che lo scambio di forze tra di loro sarà maggiore e il che genera grip e quindi di conseguenza io posso andare un po' più forte in curva. Il che però potrebbe generare sottosterzo, probabilmente in curva dovrei utilizzare delle marce più corte, però andrei a guadagnare un'efficienza di frenata e potrei anche dire che probabilmente rischierei in accelerazione di toccare con il fondo e quindi mi costringe a tenere il mio paricentro un po' più alto. Quindi questi sono gli effetti positivi e negativi di un'auto che carica aerodinamicamente al posteriore. E se la scarico che succede? Se la scarico guadagno sicuramente in velocità di punta, sarò meno efficiente in frenata, probabilmente consumerò un po' meno gomme, avrò del sovrasterzo, dovrò utilizzare probabilmente delle marce più alte in curva, però avrò la possibilità sicuramente di avere un baricentro dell'auto più basso. Quindi questi sono gli aspetti positivi e negativi di un'auto carica al posteriore o scarica al posteriore. Se carico aerodinamicamente l'anteriore di un'auto cosa succede? Succede che avrò sicuramente una miglior percorrenza in curva. Bisogna capire che l'alentone anteriore su delle classi GT per esempio non ha la stessa influenza di un'alettone di un'auto di Formula 1, quindi io vi dico in generale quali possono essere i comportamenti dell'auto. E in più avrò sicuramente un sovrasterzo in misura minore rispetto a quello che è l'influenza che ha il carico aerodinamico dell'alettone posteriore, però può influire a generare sovrasterzo e in più potrebbe spingere verso il basso la macchina e anche qui rischiare di toccare con il fondo piatto. Quindi questi sono gli effetti che può avere una macchina che carica a livello aerodinamico all'anteriore. E all'effetto contrario che succede? Cioè se scarico la macchina aerodinamicamente all'anteriore che succede? Gli effetti principali che si possono avere con un alettone anteriore scarico probabilmente avere del sottosterzo. Generalmente si usa sempre in base al carico del posteriore il valore più alto appunto dell'alettone e diciamo che a livello di effetti positivi si può ottenere come succede per l'autoscarica al posteriore il baricentro un po' più basso. Quindi questi sono gli effetti che hanno queste variazioni appunto del carico e scarico. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio in base a degli elementi fondamentali. Punto primo, cosa ci si aspetta dalla macchina? Secondo, il vostro stile di guida? Terzo, il tracciato ragazzi. E quarto direi anche il tipo di macchina. Se ho una Formula 1 andrò a fare un settaggio delle ali completamente diverse da una macchina come questa. Il vostro stile di guida perché? Perché se voi siete aggressivi in curva probabilmente avrete bisogno di più carico. Invece se siete più teneri probabilmente avrete bisogno di meno carico e quindi potrete guadagnare in velocità di punta. Ma questi sono solo punti di vista, sono ipotesi che sto facendo. Poi realmente bisogna vedere gli effetti che potrebbe avere la macchina per il vostro stile di guida. Il consiglio personale che vi do per iniziare a modificare le ali è sicuramente partire dai valori più bassi possibili perché così si sacrifica meno velocità di punta e cercare mano a mano di trovare l'equilibrio tra la velocità massima e appunto la percorrenza di curva che si ha. Ma queste sono solo opinioni personali e come faccio io? Parto sempre dal più basso, parto dalla velocità massima e poi aumento l'inclinazione dei miei elettoni finché non trovo il limite in cui oltre quel valore l'auto peggiora. Vi spiego, se io ho un valore che va da 0 a 10 mi metto a 5, poi aumento 6, 7, se vedo che l'auto non si comporta più come vorrei torno indietro e so che comunque quello potrebbe essere il valore ideale. Ma questo è il mio metodo. Ma poi sta a voi testare, provare, fare le modifiche e trovare il vostro metodo. Io vi ho solo detto quali sono gli effetti se caricate troppo il posteriore e l'anteriore e viceversa e quelle che sono le forze appunto che interagiscono con l'auto. Manca però una cosa, l'altezza dal suolo. Cioè che influenza ha l'altezza dal suolo rispetto all'aerodinamica? L'altezza dal suolo, un altro elemento importante da tenere in considerazione per il carico aerodinamico, perché? Perché più abbassate l'auto e più create il carico aerodinamico, però non è così semplice, alla bassa al massimo e via. No, perché? Perché se tenete l'auto troppo bassa e siete in piste sconnesse sarà difficile per voi controllare l'auto. Quindi ragazzi per concludere, per avere un buon settaggio aerodinamico bisogna dare in conto alcuni elementi. quindi abbiamo detto il tracciato, quindi che tipologia è, tracciato veloce, tracciato misto, tracciato lento e in base a quello scarichiamo la macchina aerodinamicamente. Il nostro stile di guida, le condizioni del tracciato, il meteo che sono molto importanti e quello che vi consiglio di fare è senza ombra di dubbio, come lo dico sempre, è provare e testare. Cioè vi dovete allenare e dovete testare ogni variazione che fate del vostro setup. Non partite da 0 a 100, bisogna fare un passo alla volta. Ho provato a 4 posteriore e 3 davanti, la prossima volta proverò 5 e sempre 3 davanti. Cioè devo trovare il giusto compromesso e quando trovate il limite tornare indietro. E ricordate ragazzi che non potete presentarvi a una gara così senza avere un buon setup. E come si fa un buon setup? Ve l'ho appena spiegato, bisogna testare e provare. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, non esitate a commentare qui sotto, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, tanto è gratuito e ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Io vi ringrazio per avermi seguito ancora una volta e noi ci vediamo alla prossima da Fabrice è tutto. Ciao! Ciao!